Siamo all'interno di Villa Condulmer. Fu costruita per volontà del nobile Alvise Condulmer. Questa villa ha avuto diversi passaggi di proprietà in quanto i Condulmer non avevano discendenti diretti ed è arrivata fino al conte Tornielli. Il conte Tornielli è stato per una ventina d'anni responsabile del teatro La Fenice di Venezia ed era un grande amico ed ammiratore di Giuseppe Verdi. La sera in cui andò in scena al teatro La Fenice, la prima della traviata, fu un grandissimo fiasco e il Tornielli invitò il suo amico Giuseppe Verdi a trascorrere un periodo di tempo in questa villa e da un piano che era in questa sala riscrisse buona parte della traviata. Giuseppe Verdi è anche raffigurato nell'affresco che vedete alle mie spalle che suona il liuto.